Fate una battaglia come Lega sulle pensioni, anche contro la legge Fornero. In questo caso, però, con la situazione dei conti pubblici italiani, pensa davvero che si poteva fare qualcosa in più per i pensionati? Un governo serio avrebbe stabilito un piano, un programma, che prevedeva la restituzione graduale di questi soldi, che non sono un regalo di Renzi, ma sono frutto di una sentenza, una volta tanto favorevole nei confronti dei cittadini, che andava semplicemente rispettata. Quindi il governo ha sbagliato in questo, ha fatto una scelta assolutamente discrezionale, basata, non si sa bene, su quali criteri. È ovvio che la priorità è dare lavoro a chi non ce l'ha, ciò non toglie che questo governo dà la sensazione di portare avanti delle azioni che vedono il pensionato come un peso. Sembra che ci sia questa politica della rottamazione nei confronti del pensionato. Non sono stati dati negli 80 euro, tantomeno agli incapienti o ai lavoratori autonomi, ma non certamente ai pensionati. Non viene restituito ciò che è dovuto e ciò che aspetta loro.